Valentino Piccone a Montalbano e Licona per presentare il film Santo Cielo che già sta spopolando in tutte le sale. Com'è stata questa esperienza qui a Montalbano? Una bellissima esperienza, una cittadina magica che diventa ancora più magica col cinema, grazie al cinema. Tra l'altro è un paesino che restituisce dei valori interessanti, quindi Montalbano diventa un punto dove succedono delle cose molto interessanti. Una cosa, io so che 50 comparse se non più erano proprio di Montalbano, com'è stato questo rapporto con i cittadini di Montalbano? Bellissimo, bellissimo, io finivo di bere un caffè e subito c'era un altro che mi voleva offrire un altro caffè. Io ho bevuto 10 caffè al giorno, perché no, te la repigliare, chi c'entra? No, non mi puoi dire di no, a ritassare il suo dolcino, è stato bellissimo. E dolcini, parlando di cose buone, qual è il cibo che ti ha colpito di più qui a Montalbano? Ieri ho mangiato una cosa che è una specie di spuma, così la chiamo, un dolcetto spumoso, così si chiama. Alle nocciole. Alle nocciole, è buonissimo, ma poi tutta la materia prima, era tutto buono, ho mangiato degli ottimi formali, ho mangiato tanto, dovevo stare attento a non ingrassare. Quindi non possiamo che salutare i nostri amici di Bella Sicilia, con un invito a raggiungere tutte le sale per vedere il vostro film. Cosa diciamo a quel parroco che così sta, un pochettino birichino? No, non è voglio neanche parlarlo. Abbracciamoci, abbracciamoci. Allora, l'invito nelle sale, ma l'invito anche a Montalbano e l'Icona. Venite, 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 vi offrono il caffè, tranquilli. E tutti gli amici che ci seguono da fuori della Sicilia, un invito in Sicilia. I am Valentino, fuori dalla Sicilia, proprio all'estero, vabbè, tante salute a tutti e buone feste, buone feste. Grazie, ciao. Ciao.